Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per un incidente avvenuto al chilometro 272 si sono formati 6 chilometri di coda con traffico bloccato tra Calenzano e Barberino. Sulla A12 per lavori code a tratti in direzione Livorno tra Massa e Versilia. Sulla FIPILI per lavori rallentamenti tra la diramazione Pisa-Livorno e Potedera-Ovest-Ponsacco in direzione Firenze. Sul raccordo autostradale Siena-Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei riadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo sulle autostrade e sulle strade a lunga percorrenza. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.